meraviglioso meraviglioso il 10.53 mica 500 euro si conferma guardate qui quanto oro che spettacolo sono un'occasione Cinzia sono un amore sono un amorino adesso vediamo allora sì questi sono veramente splendidi vi dico vedete ho tolto il cartellino adesso quindi diciamo indossato cosa ne pensate? è splendido se piace se è un pezzo così a me che piace e gli interessa direi che 6 carati e 50 guan tang a 1.400 un ciondolo così con due rubini amiche brillanti, vedete voi, ritiro è sotto costo, color puri e la Chanel lunga un metro a 1.690 euro, l'ultima rimasta, per Natale amiche non mi arrivano più quelle lunghe, non penso proprio, non penso proprio, sto aspettando quelle corte, vi dico quelle corte comunque non è che saremo sui prezzi di 8.90, 9.90 perché sono quelle con i brillanti, non sono tipo la mia piccolina, ma sono quelle brillanti più grossi, quindi sono quelle che sto aspettando l'arrivo. Qui abbiamo quella lunga un metro che è l'ultima rimasta, perché le altre sono andate via tutte mercoledì pomeriggio. Se ancora la volete, questa è carina, volendo potete fare i due giri, volendo poi ho anche un bel pendente da poter attaccare in fondo, potete attaccare un cuore, potete attaccare una crocetta, ho un bel ciucciotto, una bella pallina se la desiderate. Tutti i sabati mettiti lì e cerca Trilogy. Tre Karati e... Altanus, altanus. 4 centimetri a 250 euro, altanus nuovo. La scaletta prevede tra l'altro una scala sconti, quindi parliamo di due brillanti a 1.400... Li tengo, amiche, ancora qualche istante solamente. Tre amiche, velocissime. 1.490 per il contrarie, il tappabucchi, 2.100 per una Trilogy, dimmi. Cos'è? Sì, ma non c'è problema perché oggi si prende... Sì, sì. Sai, se me lo porti io ci sbatto dentro una medicina che ho. Se ce l'ho, eh. Bene, anche adesso. Tanta, tantissima qualità, amiche. Immaginatelo, ha anche messo... Eh, alzar... Eh, possiamo alzarci. Ebbè, cos'è? Ma giusto? Tutto si può fare... Tanta. Che meraviglia. Che meraviglia. Zaffi, questa bellissima lavorazione. Una sciarpina amiche magnifica. Vi voglio aiutare, amiche. Ve l'ho regalata. Qui non so neanche io cosa mi state pagando. Li zaffiri, l'oro, la manifattura. Se ci sono richieste per i gioielli che magari abbiamo già visto, fate richiesta. Spero di aver preso a questo prezzo la telefonata. Spero, amiche, di aver preso la telefonata, veramente, perché ve lo sto lasciando ad un prezzo che non esiste. Ve lo sto lasciando veramente ad un prezzaccio. Grazie, ritirato. Grazie, Cinzia. Che gioiello. 990 euro solamente. Sono belle queste cose, molto particolari. Saliamo. E' un gioiello, amiche, da 20.000 euro tranquilli. E' un gioiello da 20.000 euro sereni. I tempi sono quelli che sono, io vi chiedo, solamente 9.000 euro. Tenete presente che avete un brillante da un carattemmezzo e gli altri comunque non sono brillanti da meno, perché comunque sono più piccoli, ma ne abbiamo comunque per una carattemmezzo. Questo lo sto dando in liquidazione. Questa pietra, amiche, costa a me 2.000 euro, più ancora la montatura, vedete voi. Non vi interessa questa carattura? Un altro paio di maniche. Ma a un prezzo così compito. Non volete più questi due carattemmezzo? E chi se ne frega, li diamo al costo. Vi saluto, grazie, vi ringrazio, un pubblico comunque splendido. domani.